Sarà aggiornato l'elenco degli avvocati di fiducia del Comune di Caltanissetta per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente pubblico. L'avviso è rivolto agli avvocati che, se interessati ad essere inseriti nell'elenco entro le 12 del 28 febbraio, potranno richiederne l'iscrizione o l'aggiornamento dell'iscrizione. Direttamente sul sito web del Comune si potrà così scaricare il modulo della domanda che si dovrà poi presentare entro i termini previsti. Grazie.